Perché se fosse stato Salvini qua, l'avrei fatto lo stesso. Avrei detto questo slogan per i ragazzi delle scuole che sono... Quello che lei mi ha detto è perché lei è cattolico, giusto? La sua speranza le ho chiesto dove è fondata per vincere il coronavirus. Lei mi ha detto... Nella fiducia negli altri. Quindi ripetiamo insieme tre volte. Fiducia negli altri! Fiducia negli altri! Fiducia negli altri! Fiducia negli altri!